Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Buongiorno a tutti in questo lunedì 25 gennaio, buongiorno a tutta la redazione di TV6, nuovo appuntamento di inizio settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa che segue una domenica molto movimentata, una domenica molto lunga. Ieri una lunga diretta di quasi sette ore per seguire fatti di natura chiaramente calcistica, ma anche con un risvolto di cronaca molto importante, con purtroppo il duplice omicidio di ieri a Pescara in via Tibullo quando un ragazzo di nazionalità ucraina ha ammazzato madre e figlia polacche per motivi legati alla droga, debiti di droga. Questo fatto troverà ampio spazio nelle prime pagine dei quotidiani locali. Vedremo anche un servizio realizzato dalla nostra redazione, ma la domenica di ieri è stata anche una domenica trionfale per il Pescara che ha vinto 4-0 a Perugia. È stata una domenica molto importante anche in Serie D, passando per il pareggio dell'Aquila in Lega Pro contro l'Arezzo, in Serie D la vittoria della Vezzano nel derby con il Lecchieti e le conseguenti dimissioni del tecnico teatino Ronci. Da sottolineare nel basket anche l'impresa davanti alle telecamere di Sky della McEnergy Roseto che ha espugnato, dilagando il parquet della capolista di A2 Brescia. Iniziamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo intanto con le prime pagine nazionali, partendo dal Corriere della Sera. I nuovi diritti delle partite IVA assegna a chi lavora in maternità, tutele per la malattia, piano per i poveri. In Consiglio dei Ministri giovedì deducibili le spese per la formazione fino a 10.000 euro. Poi le sospensioni di Schengen da concordare la proposta italo-tedesca in occasione del vertice UE. In basso i rischi di Zika, il virus venuto da Rio, quattro casi già guariti in Italia, i sintomi e i paesi da evitare per le donne incinte. Adesso andiamo con la prima pagina della Repubblica. La Repubblica, che vediamo subito, Grecia fuori da Schengen, caos nell'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, non chiudete le frontiere, banche, ecco il piano di Padoan. Poi la fotonotizia, manifestazioni in città, l'incognita del voto segreto, diritti civili, l'invasione delle piazze, siamo un milione, Italia svegliati. Poi c'è l'editoriale, il fondo di Eugenio Scalfari, Papa Francesco sulla famiglia, non ha fatto nessun passo indietro. In basso non è un paese per scienziati, ma c'è un modo per diventarlo. E da quest'altra parte il mistero del ghetto più antico, così gli ebrei salvarono Venezia. Prima pagina del giornale che andiamo a vedere, Monti, Letta e Renzi, ecco chi ci ha rovinato. È ufficiale, la produzione industriale ha smesso di crescere dopo il governo Berlusconi, il banchiere amico del premier specula e il governo paga. E poi ancora, terrore del nord-est, l'Audi gialla si può fermare, la legge c'è. Studio shock sull'islam violento in Italia, donne picchiate per preservarne l'identità, minaccia video degli attentatori a Venezia. Di Parigi, colpire Londra e l'Occidente. Poi il controcorrente, famoso come il Papa, grazie ai tortellini. E parliamo di Giovanni Rana. E in basso la prima fuga o quasi del campionato nella rubrica finale di partita di Giuseppe De Bellis. Vediamo ancora il fatto quotidiano. Serra, strani sms con Renzi, conflitto di interessi, il finanziere amico del premier, parliamo di mercati. Sotto la testata, Grillo è più libero ma resta, adesso squadra più larga di Battista e il fondatore annuncia un altro passo di lato. E poi ora i voti di Verdini sono decisivi anche per l'Unione Civili, Senato in bilico. Da giovedì la discussione arriva in aula. Storia di copertina, faccendiere il mestiere più antico della Repubblica. A distanza di 40 anni sembra incredibile ritrovare i personaggi delle vicende più oscure della nostra democrazia. E che papà Boschi li vada a cercare. Sergio Rizzo dice che sono essenziali per il potere. Poi la paralisi, Sagno, viaggio nel sud che Roma ha dimenticato 90 giorni fa l'alluvione. E poi in basso, e se lo avesse fatto Berlusconi, piccoli Caimani crescono. I silenzi su Carrai e sul caso Arezzo. Chiudiamo con la prima pagina del messaggero. Dopodiché passeremo anche ai quotidiani locali che sono chiaramente, che enfatizzano e danno spazio all'omicidio avvenuto ieri pomeriggio a Pescara in via Tibullo. E a rischio l'unità dell'Europa. L'intervista Avrama Populos, commissario dell'UE, la crisi dei migranti non riguarda solo Schengen. Italia e Grecia vanno aiutate, servono identificazioni rapide e rimpatri. Oggi vertice ad Amsterdam. E poi ancora in basso la fotonotizia. Roma con la Juve difendersi non basta. 1-0, nessun tiro nella porta di Buffon. Lazio ne rimonta sul Chievo. E poi l'editoriale di Giulio Sapelli, la fragile unione, questo il conto per gli errori della Merkel. Taglio medio, addizionale IRPEF, scattano i rincari per i redditi più alti. In quattro regioni cambiano le aliquote. Lazio, risparmi per chi è fra i 28 e i 35 anni. In basso, 50 sfumatori in TV, scoppia il caso. E poi Timbrava in mutande, cacciato il vigile. Allora, andiamo ora con la prima pagina del centro. Andiamo a vedere, come detto in prima pagina, l'orrore che si è vissuto ieri a Pescara. E' morta per difendere il figlio. Portanova, la badante polacca, ha cercato di fermare la furia cieca dell'assassino, ma sia lei che il ragazzo sono caduti sotto i colpi del giovane ucraino, subito preso. Qui vediamo lo scatto al momento dell'arresto di Maxim Cernisch, il 25enne ucraino, che ieri appunto si è reso protagonista, tra virgolette, di questo efferato duplice omicidio. Le vittime, Cristina Mixa di 53 anni e Arca Mixa di 22 anni, invece l'assassino ucraino è 25enne. C'è anche il Pescara, il calcio, Pescara da sogno, 4-0 a Perugia, gara perfetta e sesta vittoria di fila per i ragazzi di Oddo. E sabato c'è il Bari. Poi alcuni richiami, inquiramento, micropolveri e le stelle, rebus sulle contromisure. Il lutto, folla per l'addio al bidello, gli studenti lanciano petali. Poi il Buongiorno Abruzzo di Lorenzo Colantonio, licenziato l'assenteista in mutande. Abbiamo visto prima la prima pagina di un quotidiano nazionale, l'assenteista in mutande al comune di Sanremo in Liguria. Pagina 2 e pagina 3, orrore a Pescara, madre e figlio uccisi a bastonate, preso l'assassino che confessa, lite per la droga, la donna rincasata al momento sbagliato. Usate due armi, mazza da baseball e coltello da cucina. Ecco qui ancora le foto di assassino e una delle vittime, poi una delle armi trovate sul luogo del delitto, vedete anche delle tracce di sangue. Immagini molto forti, immagini che peraltro stiamo per vedere anche con il nostro servizio. L'aggressore in fuga si disfa di un borsone, la polizia lo rintraccia seguendo la copiosa scia di sangue. Si era rintanato nello sgabuzzino al piano terra di un palazzo a poche centinaia di metri. Era ferito anche lui. Poi, povera Cristina, una gran lavoratrice, viveva per i tre figli. Il dolore dell'anziano da cui abitava, una donna forte, si alzava alle quattro per mandare soldi ai nipotini in Polonia. E poi, sotto shock, era nascosto nella nostra cantina un rischiato grosso. Carlo Ragneri, l'uomo che si trovava a pochi metri da dove si era appostato il carnefice. Tra poco ascolteremo anche la sua testimonianza. Un quartiere affacciato al balcone. E poi ancora usate due armi, mazza da baseball, coltello da cucina. Vediamo ancora, orrore a Pescara, muratore saltuario, cercava un impiego, un bravo ragazzo. Questa è una delle due vittime, il figlio. Sono increduli vicini di casa, educato, sempre calmo, tranquillo, ma in quest'ora risultano precedenti per furto e droga. Poi l'assassino Maxin Cernisch, estorsore e ladro. La polizia ha detto che eravamo drogati. Sentito a caldo, si era limitato ad ammettere i colpi mortali. In serata ha detto di essere stato aggredito e di essersi difeso. Allora, andiamo a vedere il nostro servizio realizzato da Francesca Romana Testi con le immagini di Claudio Di Giacomo. Questa è via dei Pretuzzi, esattamente qui è stato trovato l'uomo accusato del duplice omicidio di via Tibullo, un ucraino, lo ricordiamo. Il motivo dovrebbe essere quello della droga e quindi l'uomo ha avuto una lite con il ragazzo che poi è stato trovato morto in casa. Proprio qui si era venuto a nascondere all'interno di una stanza che aveva dei contatori. La stanza veniva lasciata aperta e l'uomo si è nascosto dentro e si è chiuso a chiave. Il fratello del proprietario dell'immobile era venuto per cercare di dare da mangiare a degli animali e ha provato a forzare la porta. Non ci è riuscito, si era sporcato le mani con del sangue, però non aveva dato troppo peso alla cosa. Si era lavato le mani, era andato via. Al suo ritorno ha trovato gli uomini della scientifica, la stampa e da lì è partita la ricostruzione. A che ora è venuto la prima volta a dare da mangiare a casa? Sono venuto alle 17.15, proprio precise perché ho visto la partita del Pescale, stavo seguendo. Ma sono rimasto almeno un quarto d'ora qui, in attesa anche di sapere qualcosa da mio fratello, se ci fosse stato qualche chiave in giro per aprire. Quando ha provato a forzare la porta da dentro nessun rumore? Nessun rumore da dentro, no, assolutamente. Ma è una cosa inspiegabile che questa porta era chiusa, dall'interno poi ci siamo accorti. E ulteriori dettagli saranno diffusi oggi in conferenza stampa, quindi vi rimando all'edizione odierna delle ore 14 del TG6 per sapere ancora di più su questo efferato duplice omicidio che si è consumato ieri pomeriggio a Pescara. Andiamo avanti sempre con le pagine del centro. Qui siamo a pagina 11. Grande Pescara al palo, la legge c'è ma non piace. In Commissione regionale approda una proposta che trova però già la strada sbarrata malgrado i 20 mesi trascorsi dal voto dei cittadini di milioni in ballo. Infatti il centro parla di referendum inascoltato dalla regione. Carlo Costantini, di chi sono le responsabilità? D'Alfonso è uno dei tanti, le zone interne non gradiscono la nascita di una grande città che le schiaccerebbe. Le parole anche del consigliere Camillo D'Alessandro, la legge del Movimento 5 Stelle è un salto nel buio e un attacco pesante ai diritti di altri 302 comuni. La corsa al voto sarebbe un errore clamoroso. E poi ancora qualcosa va di traverso, ecco i consigli salvavita, determinante agire nei primi minuti per evitare il soffocamento. Nell'ospedale di Pescara ha recuperato un centenario di oggetti in anestesia locale. Siamo ora nelle altre pagine di cronaca di Pescara e resta attuale l'argomento legato all'inquinamento da polveri sottili. Lo smog ancora le stelle, il rebus sui limiti al traffico, i valori delle micropolveri continuano ad essere sopra i livelli di sicurezza, ma l'amministrazione comunale resta incerta sulle misure da adottare. Ed ecco una tabella riepilogativa con alcuni punti nevralgici dove appunto si registrano picchi di inquinamento, via Firenze, via Sacco, via Lebovio, via D'Annunzio, piazza Grue, con diversi valori, molti dei quali appunto al di sopra dei limiti di legge. Una folla per l'addio al bidello, gli alunni lanciano petali di fiori, chiesa di via Stradonetto gremita per i funerali di Antonio Di Cola, stroncato venerdì da un malore, il ricordo del parroco Don Marco, il sorriso non mancava mai sulla bocca di quest'uomo buono. E poi in basso, nomi delle strade, scontro in aula, oggi in consiglio le mozioni per dedicare le vie ad Almirante, Berlinguer e Gaspari. E poi in basso, i consiglieri servono un cimitero per animali e la proposta va in votazione. Sempre a Pescara, neurochirurgia d'eccellenza a pazienti da Lazio e Marche. L'anno scorso effettuati 450 interventi nel reparto diretto dal primario Iovenitti. Contro i tumori cerebrali viene utilizzato un neuronavigatore che scova le lesioni. E poi in basso, operato al cuore senza cicatrice a 86 anni, intervento d'eccellenza del cardiochirurgo Canosa, sostituita la valvola aortica senza aprire il torace. E poi il cantiere della City, trasformato in covo per i senza tetto. Tra i palazzi della regione in costruzione sulla Tiburtina si trovano vestiti, pentole e cumuli di rifiuti abbandonati. In basso, per entrare in comune, serve un documento. Ripristinate le barriere, chiaramente comune di Pescara. E qui siamo a Montesilvano, consiglieri liquidati a dicembre, gettoni per 13 mila euro. Svelati i compensi dei politici comunali in 5 raggiungono la cifra massima di 857 euro. E poi, strade rotti in 800 aderiscono alla protesta. Appenne nasce un movimento contro buche e avvallamenti. È attivo con banchetti e sui social. Pagina di Chieti, regione, la richiesta assurda. Stipendi pignorati per bolli auto del 1999, stangata su centinaia di automobilisti. Ma il Codacons di Chieti chiede ad Alfonso le sue ricevute di 17 anni fa. Poi, paese calcio in lutto a Giuliano Teatino. Addio ricco, muore a 36 anni il vicepresidente del Giuliano. In basso, Carichietti, pretendenti allo scoperto, scade il termine per la manifestazione di interesse. Si parla di un acquisto in blocco del Good Banks. Pagina aquilana. Siamo a Trasacco, ragazzino travolto da pirata della strada. Gli amici del ferito prendono il numero di targa. Il fuggitivo è ripreso dalle telecamere, rintracciato e denunciato in poche ore. Dopo l'incidente è partito una vera e propria caccia all'uomo. I carabinieri hanno identificato e raggiunto il 26enne a casa. Il giovane è stato subito denunciato. Poi in basso, la Inverardi Fotose, solo una moda, la rettrice dell'Università dell'Aquila. Si schiera dalla parte dei suoi studenti, hanno senso di comunità. Pagina di Teramo. Tragedia ad Atri. Era ricoverato in Austria. Luca non ce la fa. Muore dopo due anni. Il ragazzo di 28 anni ha lottato per sopravvivere dal novembre 2013, quando ebbe un grave incidente stradale di notte. Ora si attede il ritorno. La famiglia sperava in un'altra operazione che gli consentisse di recuperare, ma sabato sera il cuore ha smesso di battere la madre. Tanta solidarietà è stata bella. I parenti ringraziano tutti coloro che hanno aiutato a pagare le cure. Lutto in città e nello sport locale. Ci fermiamo con il centro. Andiamo ora con il messaggero Abruzzo. Appena ha finito di sfogliarlo, poi andremo con il break meteo, con il nostro Giovanni De Palma. Ecco la prima pagina del messaggero Abruzzo. Anche in questo caso ovviamente l'apertura è la medesima. Madre e figlio trucidati in casa. Pescara massacro in una manzarda di Porta Nuova. Le vittime, due polacchi di 56 e 23 anni. Regolamento di conti per una storia di droga. Preso un ucraino era nascosto a poca distanza. Arresto Lampo seguendo la scia di sangue, il blitz della polizia. Così appunto si è conclusa la caccia all'uomo. Qui vediamo appunto un'altra foto del luogo del delitto con gli schizzi di sangue sul pavimento e sulla porta. Sotto la testata Pescara-Show a Perugia. Quattro gol, obiettivo Serie A. Posticipo spettacolo, sesta vittoria di fila. I biancazzurri sognano. E poi trema il record di Zeman. Oddo, sì, ci crediamo. Lega Pro per l'Aquila al fattore. Soltanto un punto. E poi ancora credito Nuova Carichietti. Oggi si svelano le manifestazioni di interesse. L'Aquila consolidamento e poi la facciata. Tutti i lavori per San Domenico. Basket, Roseto fa piangere la capolista Chieti. Niente da fare a Ferrara. E poi D'Alessandro, macro regioni, solo alleanze variabili. Marche, Umbria e Toscana pensano ad un'alleanza per collegare i due mari. Noi già l'abbiamo. E poi in basso, Trasacco, investe un giovane sulle strisce e si dà alla fuga. All'interno del messaggero Abruzzo. Due pagine chiaramente dedicate all'omicidio. Uccide madre e figlio preso seguendo la scia di sangue. La polizia è arrivata al nascondiglio di Via dei Pretuzzi. Grazie alle tracce lasciate dal fuggitivo. Ferito alle mani. L'omicida ucraino è stato acciuffato nel locale Caldaia di un condominio. E non ha fatto resistenza. Scopri il killer per sfamare il gatto. Abbiamo ascoltato prima la sua testimonianza. Carlo Ragneri racconta il pericolo corso, l'allarme dei vicini appena rientrati dalla montagna. E poi ancora in basso, controcorrente, io e imprenditore do fiducia agli stranieri. Da quest'altra parte, pagina 31 del messaggero, la testimonianza dell'omicida. Sono stato io, li ho uccisi per la droga. ha confessato a Maxim Cernisch in serata il diritto di Arkadius Miksa, 23 anni polacco, e della madre Cristina. Prima ha coltellato un amico dopo una fornitura non pagata. Poi ha massacrato lei appena rincasata con una mazza da baseball. Casa e lavoro. Cristina faceva tutto per il ragazzo. E poi in basso perdeva sangue. Scappava. L'ho visto e ho dato l'allarme. Una vicina ha visto il killer e ha dato subito l'allarme. Sono stati poco dopo due ragazzi a trovare l'arma. Pagina dell'Aquila. San Domenico tornerà a essere edificio di culto. 5 milioni di euro per consolidare la chiesa sconsacrata. Non sarà riallocato dove era l'organo di proprietà del conservatorio. Aggregato ex caris PAC. Proposto il contratto. La ditta Cingoli avrà 7 giorni per firmare. Quindi via al cantiere. E poi accoglienza per disabili nella palestra di via Antinori. Nella Marsica investe un ragazzo sulle strisce e fugge. Si tratta di un giovane lucchese che è stato rintracciato e denunciato a Trasacco. La vittima è finita in ospedale. Analogo episodio si è verificato anche nel capoluogo. Romeno provoca incidente. Si dà alla fuga. Individuato. Pagina di Chieti. Per nuova Carichieti è il giorno della verità. Alle 18 scadrà il termine per l'offerta e cresce l'attesa fra i dipendenti, imprenditori e sindacati. Sullo sfondo, inchiesta e ricorsi. Tanti eventi con il Festival della Scultura e Glauco Mauri a Lanciano e a Vasto a Palazzo Davalos. I lavori vanno a rilento. L'ex assessore D'Adamo ha scattato alcune foto per fare il punto delle opere. Pagina di Teramo. Nuovo parcheggio dell'ospedale. Vertice antirischio incompiuta. Nella diatriba tra Asl e privato interviene il Comune. Riunione fissata per giovedì. Ci sarà anche il manager Fagnano. Servono almeno 10 milioni e non c'è l'accordo tra le parti. Il sindaco Brucchi chiediamo che sia rispettata la vecchia convenzione che si è realizzato al più presto. A Giulianova, via libera alla Street Art, al Porto e nei Sottopassi. La vice sindaco Nausicaa Camelli sarebbe tra le prime città a dare spazio alla creatività. E poi, come abbiamo visto ad Atri, questa brutta notizia. Luca Jezzi muore a 29 anni dopo il terribile incidente. Il giovane si è spento in una clinica austriaca. era rimasto in coma dopo lo schianto del novembre del 2013. Ci fermiamo e andiamo a salutare. Darile, buongiorno a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. In mattinata ho sentito freddo. Perlomeno eravamo sui gradi zero, mi confermi? Sì, sì, esattamente Andrea. Ci sono delle gelate soprattutto nelle penure, nelle valli, ma in particolar modo sul settore occidentale, nell'Aquilano, dove le temperature sono al di sotto dello zero. Siamo interessati dal passaggio di una residua nuvolosità, un sistema nuvoloso che comunque nelle prossime ore abbandonerà la nostra penisola perché è previsto il ritorno dell'alta pressione. Andrea, soprattutto nei prossimi giorni, alta pressione che garantirà tempo stabile, prevalentemente soleggiato. Tutt'al più qualche nuvolamento sarà possibile nei prossimi giorni, ma nulla di rilevante. L'alta pressione favorirà soprattutto anche un generale aumento delle temperature, in particolar modo su zone collinari, alto collinari e montuose. Temperature in deciso aumento, Andrea. Mentre nelle pianure, nelle valli, quindi nelle conche, saranno possibili comunque dei banchi di nebbia, soprattutto durante le ore serali e notturne e al primo mattino. Non si prevedono sostanziali variazioni, tuttavia la persistenza di questa figura di alta pressione, Andrea potrebbe, anche sicuramente favorirà, un nuovo accumulo delle sostanze inquinanti nei grossi centri urbani, Andrea. Quindi sarà possibile riavere anche temperature come due o tre settimane fa o a livelli così alti non ci arriveremo? No, diciamo non ci arriveremo perché allora siamo stati interessati da un flusso di correnti occidentali, dalla Garbino che sul versante orientale ha favorito temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Sicuramente i valori torneranno a salire e saranno più elevati, soprattutto sulle zone collinari e alto collinari. Comunque, insomma, durante le ore più fredde della giornata le temperature saranno anche piuttosto basse, in particolar modo, ripeto, nelle pianure e nelle conche, Andrea. Ieri è stata una domenica da tifoso bianco-azzurro ricca di soddisfazioni, vero? Sì, il Pescara ieri ha giocato, si dice che non esiste la partita perfetta, ieri il Pescara ci è andato vicino, se è così possiamo dire, perché è stata una prestazione davvero impressionante, quella offerta dai bianco-azzurri che praticamente non hanno lasciato occasione al Perugia, se non per un errore difensivo, ma comunque una prestazione che mette in luce le qualità di questa squadra è dell'allenatore, io sottolino dell'allenatore, perché il nostro allenatore ha veramente dato un gioco e un'identità a questa squadra che in questo momento può risultare fondamentale per il proseguo del campionato. Staccare il Bari prossimo avversario, insomma, nella partita di sabato, è di fondamentale importanza per la lotta, per la promozione diretta, perché io credo che questa squadra abbia le carte in regola per la promozione diretta in Serie A, dovrà la società ovviamente intervenire sul mercato, in particolar modo nel reparto difensivo, così come richiesto dall'allenatore. Ma io sono sicuro che comunque il Gian Pescara ha un grande gruppo, merito di questo allenatore, merito di mister Oddo. Andrea? Eh sì, e poi ieri sono stati lanciati diversi appelli già dalla sala stampa di Perugia, affinché ci sia lo stadio pieno sabato, perché passa forse una fetta di Serie A. Ma sì, ma è il minimo, io credo che sia il minimo e sicuramente credo che il pubblico pescaresi e i tifosi del Pescara andranno in massa allo stadio, ne sono praticamente sicuro, perché non si può non andare allo stadio dopo aver visto la partita di ieri, insomma, sarebbe il minimo, un minimo di ringraziamento, tra virgolette, a questa squadra che sta offrendo veramente oltre prestazioni e una carrellata di risultati positivi, vittorie consecutive, insomma, che non accadeva nei tempi d'oro. Quindi, ecco, tutto è lo stadio, sono d'accordo, perché è il minimo che possiamo fare noi tifosi, insomma, del Pescara, Andrea. Allora, buona giornata e buon lunedì, Giovanni, grazie. Grazie, Andrea, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Bene, adesso possiamo proseguire, andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta dello Sport, ovviamente, come tutti i lunedì, grande spazio alle pagine sportive e anche dei principali quotidiani nazionali. Di balissimo, la Juve fa fuori la Roma e in fuga con Napoli, scudetto per due bianconeri all'undicesima vittoria di fila. Sotto la testata Mancini, furioso, avrei segnato anch'io la Sagna Gela Linter con la rete che vale l'1-1 del Carpi, il tecnico a Icardi e compagni, a 50 anni quel gol lo facevo. E poi ancora c'è il commento di Luigi Garlando, una coppia di grande bellezza. Di spalla, segni di pace, Sarri in campo a Genova con la sciarpa del Mancio. Torino KO, volti e moduli nuovi, la Viola riprende la corsa. In Inghilterra, Ranieri comanda la Premier, Guidolin subito un successo. E poi in basso, Basket Jenkins lancia Milano. Chiellite, Moretti, Re, Peja, Cantù vince e ora fa paura. Sci, Razzoli dalla gioia al crack, si è rotto il crociato. Fon, altra perla a Cortina. Una rapida sfogliata anche alla Gazzetta dello Sport, ma questo è un Messi, scrive la Gazzetta. Un favoloso Di Bala sgambetta la Roma, la Juve bracca il Napoli. E poi il personaggio chiaramente è l'argentino, leadership e 12 gol. Paolo è un affare, giocavamo solo noi. Poi ancora, qui abbiamo le dichiarazioni dei due allenatori. Allegri, ora ride, un girone fa eravamo scarsi, parlo inglese. Yes a Lidl dalla parte opposta, Spalletti, deluso, mi aspettavo di più. E Florenzi, cambi atteggiamento. E poi il Napoli, la grande vittoria ieri a Genova sul campo della Sampdoria. Napoli super, i fantastici quattro, Higuain, Insigne, Amsic e Mertens. Tutti a segno, schiantata la Samp. I protagonisti, Higuain e Insigne, mai una coppia così nella storia del club. L'Europa li guarda, neanche da Maradona e Careca. 30 gol in 21 partite di A. Meglio solo i tandem offensivi di Barcellona, Real e Bayern, cioè i top team europei. Lasagna di traverso, Inter, 1-0 non basta più. Il Carp in 10 fa pari e festa. E c'è la furia di Mancini. Certi gol li faccio anche io a 50 anni. Andiamo a sfogliare il giornale fino ad arrivare, intanto la pagina di calcio internazionale, Italians do it better, in riferimento alla leadership dell'Eister di Ranieri, ma anche all'esordio con vittoria dello Swansi di Guidolin. L'esordio di Guidolin sulla panchina dello Swansi. Vittoria esterna sul campo dell'Everton per 2-1. Guidolin, prima d'applausi, il suo Swansi batte l'Everton. E poi la Serie B, Pescara. La sesta è un vero trionfo, Perugia demolito, Oddo vince ancora. E ora il terzo posto è blindato, si risveglia la padula. E super Benalì, crolla Bisoli. 0-4 il punteggio, migliori in campo. E Benalì, voto 7,5 per il centrocampista libico. Libico, alcuni affari di mercato, Decenco al Trapani, Sarenitana per il Tris, Baridezzi, ora è fatta. E poi questa sera il posticipo che chiuderà la 23esima giornata, il Livorno contro il Como in una sfida da salvezza. Prima di andare in pubblicità, vediamo anche l'articolo sul pareggio dell'Aquila con l'Arezzo. 1-1, tremolata, gol ed errore. L'Arezzo butta la vittoria, l'Aquila strappa un punto. 1-1 dunque, evidenziata la prestazione di Milicevic, che è entrato nel secondo tempo, 6,5 per il calciatore Aquilano. Questo appunto nelle valutazioni della Gazzetta. 6 per Tremolata, autore del bel gol su punizione, ma anche dell'errore dal dischetto. Bene, San Domenico, 6,5 anche per lui. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi riprendiamo con Centro e Messaggero le pagine dello Sport. Vediamo la prima pagina del Corriere dello Sport e vediamo anche dei servizi. Di nuovo, buongiorno, riprendiamo con una ricca, corposa seconda parte di Mattino 6. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport. Testa a testa, il 4-2 azzurro, travolta la Samp, Marassi, Guain, sale a quota 21 gol, Sarri, tutto è possibile. L'1-0 bianco-nero, zampata di Di Bala, Roma-KO, undicesima vittoria consecutiva, Allegri, noi ci siamo. E infatti Napoli e Juve, fuga, scudetto, l'opinione di Alessandro Vocalelli, ma non è solo Iguain contro Di Bala. E poi in basso, Interflop, Furia-Mancio, 1-1 a San Siro, il tecnico attacca i cardi, sale la Fiorentina. Serie B, Pescara Show, cale il poker, crisi Perugia, all'estero l'Arsenal cade, Guidolin ok, vince subito. E allora vediamo anche la pagina della Serie B con il trionfo del Pescara che viene definito da Serie A dal Corriere dello Sport. Ecco qui, Pescara da Serie A, Oddo è insaziabile, travolto il Perugia, un autorete di Rossi spiana la strada agli abruzzesi, i micidiali con la Padula, Benalì e Caprari, tre gol in sette minuti. Penso al primo posto, dice Massimo Oddo nel dopo partita, poi qui ci sono le valutazioni, spicca il sette per la Padula, evidentemente il migliore in campo secondo il Corriere dello Sport. Poi per il mercato sempre di Serie B, Crotone due colpi, Sarinitana su Cocco, proprio del Pescara, Dezzi a Bari, la capolista stringe per Fazzi e Garzi Atena, il Perugia chiude per Bolzoni del Palermo, Pescara, Antenucci e Coda. Ora vediamo il centro, vediamo centro e messaggero, gli articoli di sud del Pescara e poi andiamo a vedere anche il nostro servizio. Spettacolare il Pescara, siamo sul centro, il Pescara ingrana la sesta e dà una lezione di calcio, grande prova dei biancazzurri che rilanciano la candidatura per la Serie A. Oddo, questa squadra merita la promozione, l'allenatore promuove Torreira e spiega, grande ripresa, abbiamo dominato, sembravamo il Barcellona, Pargone fuori luogo, ma ci ispiriamo ai Blaugrana. E appunto per il mercato, se parte Cocco, arriva Antenucci, poi ancora l'entusiasmo, Caprari, ora si può sognare in grande, abbiamo dato una dimostrazione di forza, poi ancora Biancazzurri su di giri dopo il poker rifilato al Perugia, davanti a oltre 9 mila spettatori. In basso le pagelle, Campagnaro e un muro, Benalì ha una marcia in più, infatti voto 7 per Campagnaro, Zampano, Memusciai e Torreira, anche per Caprari, mezzo punto in più per Benalì e Lapadula. Per loro il voto 7,5, questo per quanto riguarda appunto il centro. Vediamo ora il messaggero Pescara, che spettacolo, prestazione esaltante della squadra Biancazzurra che travolge il Perugia dando una lezione di calcio, sblocca un autogol di Rossi, poi Lapadula, Benalì e Caprari con tre capolavori completano la goleada. Sesta vittoria consecutiva per il Delfino che consolida il terzo posto in classifica. Torreira che ieri è tornato a giocare dopo una lunga inattività, che gioia tornare con una prova così, siamo un gruppo con tante risorse, non è facile essere titolare, ma lavoro per essere sempre pronto. Oddo conferma, la Serie A è più vicina, il tecnico sorride, è una gara super, bravi a non sottovalutare l'impegno, a differenza di altre volte abbiamo comandato la gara per 90 minuti e segnato tutte le reti bellissime. Sebastiani, cerchiamo soltanto un difensore, dice appunto il numero uno Biancazzurro. Allora, andiamo a vedere la vittoria del Pescara nelle immagini e nel servizio curato da Paolo Renzetti. Tanto di cappello al Pescara di Massimo Oddo che con una prestazione da incorniciare passeggia sui resti del Perugia e conquista la sesta vittoria consecutiva con un 4-0 che lascia poco spazio ai commenti. Festa grande in Curva Sud per gli oltre 600 tifosi pescaresi che già pensano alla super sfida di sabato prossimo all'Adriatico con il Bari del grande ex Andrea Camplone. Una gara che dovrà vedere la grande risposta dei supporters pescaresi chiamati ad essere il dodicesimo uomo in campo. Avvio a ritmi sostenuti con i ragazzi di Massimo Oddo che fanno subito vedere di avere le idee ben chiare. Al sesto Memushai dai 25 metri alza la palla di poco sopra la traversa. Caprari al dodicesimo vede lo spazio libero davanti a sé prova la conclusione mandando il pallone a lato. I ragazzi di Oddo spingono con la padula molto attivo che al diciassettesimo con una mezza rovesciata sporca alza di poco sopra la traversa. Il pescare però scatenato e passa meritatamente in vantaggio al 26esimo con un autorete di Marco Rossi che su conclusione di Memushai rinvia in modo errato nella sua porta regalando il vantaggio più che meritato ai biancazzurri. Al 36esimo la padula ha un'ottima opportunità con Rosati che dice no. Si ricomincia nella ripresa al secondo con un lancio di Taddei la sponda di Di Carmine con la palla per Della Rocca che con un tiro violentissimo sfiora il pareggio. I biancorossi appaiono più determinati e premono nel tentativo di pareggiare anche se al dodicesimo capita la padula l'azione per il raddoppio ma il giocatore del Pescara affretta troppo la conclusione mancando il bersaglio grosso ma il Pescara è straripante così la padula prima al ventesimo di testa chiama al miracolo Rosati e poi due minuti dopo sul filo del fuorigioco raddoppia con una rete di rapina andando a festeggiare sotto la curva sud occupata dagli encomiabili tifosi pescaressi che poi non credono quasi ai loro occhi quando al venticinquesimo Benali piazza il Lettriss che fa partire i titoli di coda della gara ma il Pescara non è pago e così arriva al ventottesimo il poker di Gianluca Caprari che piazza la rete che chiude davvero la gara il finale vede al quarantunesimo i due gol clamorosi falliti da Zapata e poi sul capovolgimento di fronte da Valerio Verre il resto lo fanno i tifosi pescaresi per la festa sugli spalti al termine di una serata davvero da incorniciare è proprio così invece umori opposti a Lanciano Lanciano un'incredibile occasione buttata via siamo sul messaggero difficile ripartire dopo una sconfitta come quella maturata da Ascoli da Versa non si può prendere un gol così dopo averne falliti tanti Di Matteo diventa una star del web con il video del palonetto diretto nella rete Picena e da lui respinto anche ieri a Sky se ne è parlato diffusamente commenti insomma diciamo così sorpresi per usare un eufemismo per l'incredibile opportunità buttata al vento da Di Matteo si aspetta il Sidi Cragno piace il serbo Iagnatovic poi ancora sul centro anche qui viene riportata questa voce di mercato riguarda il Lanciano piace il serbo Iagnatovic e il Foggia vuole Ferrari ancora grandi manovre di mercato attorno al Lanciano Lanini verso Como ma in avanti manca qualità ad Ascoli i limiti sotto rete sono parsi evidenti il centrocampista del Sangallo e il nuovo obiettivo continua la telenovela Cragno ore decisive per il portiere Lega Pro Campitelli euforico a Pisa vittoria storica per il Teramo il patrone si gode il successo che porta i Biancorossi fuori dalla zona play-out oggi è attesa la fumata bianca per Scapuzzi del Como in cambio di Lenoci avanti ed ecco la pagina o meglio le due pagine dedicate al pareggio dell'Aquila l'Aquila pareggio e rimpianti con l'Arezzo e il Rossoblu vanno in svantaggio Scotti para un rigore rimedia San Domenico l'ansia per l'imminente sentenza del calcio scommesse condiziona la gara ci sono le parole del tecnico Perrone partiti male poi abbiamo meritato il punto c'è poi la spiegazione dell'esclusione di Zandrini non è una bocciatura definitiva Scotti ci ha salvato poi in basso San Domenico il sigillo il settimo sigillo è per Conni dedica dell'attaccante alla fidanzata alla sentenza non siamo spaventati speriamo in uno sconto poi le pagelle voto 7 per Scotti che ha parato un rigore a Tremolada 6 e mezzo per San Domenico 6 e mezzo anche per Milicevic e poi tutti i voti tra il 5 e mezzo e il 6 vediamo anche l'articolo del messaggero l'Aquila solo un punto i Rossoblu agguantano l'Arezzo 1 a 1 che aveva fallito il rigore del raddoppio il solito San Domenico scaccia la paura anche in questo caso voto 7 per Scotti voto 7 anche per Manuel Mancini 6 e mezzo per San Domenico e Piva Perrone abbiamo giocato un tempo ciascuno il risultato è giusto ma potevamo anche vincere incombe la mannaia del verdetto di Urti Soccer spero in 12 in 12 punti in meno San Domenico non importa il ruolo quando segni e allora andiamo a vedere con il servizio di Gianmarco Menga le immagini di questo 1 a 1 del Fattori al Fattori finisce 1 a 1 tra l'Aquila e Arezzo Rossoblu in svantaggio per più di metà gara ma poi salvati dal solito San Domenico che ha evitato una pesante sconfitta contro una diretta concorrente alla salvezza primo tempo a bulico di emozioni nella prima mezz'ora ci provano prima San Domenico nell'Aquila quindi capisce che dalla distanza mette i brividi al portiere Scotti con le lancette andiamo a cavallo della mezz'ora Sabatino e Feola cercano lo scambio De Francesco colpisce il pallone con la mano a munizione e punizione da l'Aquila l'ex inter Tremolada disegna questa parabola perfetta che trafigge Scotti sul suo palo gol da leccarsi i baffi e 1 a 0 per Marezzo Alfattori l'Aquila prova la reazione subito ma il collo pieno di Benzaglia dalla distanza viene messo in angolo da Bagliotte prima del 45esimo ci prova anche Terna in sforbiciata su cross di Vesosa ma anche in questo caso la mira è difettosa proprio allo scadere però gli Achilani rischiano il tracollo Sanni abbatte così Bentancur calcio di rigore per i toscani Tremolada va dal dischetto ma si lascia ipnotizzare da Scotti e tiene in gioco l'Aquila nella ripresa adesso due migliorano nel gioco mentre l'Arezzo cala fisicamente Perrone trova la mossa vincente fuori Vesosa dentro Milicevic con conseguente spostamento di San Domenico in attacco nella 3-5-2 l'intuizione viene premiata al 25esimo Perna verticalizza per San Domenico che beffa l'arena difensiva dell'Arezzo aggira Baioc in uscita e sul piede debole appoggia nella porta sguarnita 1-1 e settimo sigillo in campionato con il 7 dell'Aquila Poco dopo a sfiorare il sorpasso è Ferna con un'acrobazia che non va a buon fine è l'ultimo sussulto l'Aquila salva la pelle conquistando un punto prezioso dopo un primo tempo in colore di una ripresa briosa settimo risultato utile consecutivo tra le mura del fattori l'Arezzo invece allunga ad otto la striscia dei risultati utili dopo le due vittorie ottenute nelle prime due sfide del 2016 e torniamo sul messaggero Teramo domani arriva Scapuzzi bomber del Como perfezionato con i lariani lo scambio con le noci le parole della D Daniello seguiamo le indicazioni che ci ha fornito il mister Vivarini poi Beltrame andiamo ora in serie D il derby di ieri dei Marsi gode solo l'Avezzano il Chieti si arrende di Curzio boom boom un gol per tempo e regale il successo ai patroni di casa mister Ronci si dimette a fine partita Romagnello evita il tracollo nel finale l'attaccante è stato decisivo terreno di gioco impresentabile ha condizionato la manovra patron Paris finalmente cinici come piace a me e poi Ronci molla spero serva a dare una scosta Chieti ieri non ha parlato a fine partita c'era un momentaneo silenzio stampa poi però sono state raccolte le dichiarazioni del tecnico Ronci dopo la sua decisione di dimettersi allora vediamo il servizio della partita e poi in coda un minuto un estratto dell'intervento di Donato Ronci ieri nel corso della trasmissione l'abruzzo del pallone di Jacopo Forcella vediamo dopo quasi 19 anni torna al Dei Marsi il derby tra Vezzano e Chieti ad aggiudicarselo sono proprio i marsicani con un gol per tempo al termine di una prestazione concreta ed essenziale male il Chieti specie nella ripresa e i teatini finiscono in zona play out riduce dal rinvio della gara di Agnone il tecnico marsicano Lucarelli si ritrova sul groppone le scolifiche di Felli e Menna e l'infortunio di Pollino al loro posto di Curzio in attacco Venditti e l'italo-ivoriano all'epo in difesa dall'altra parte Ronci ancora privo di Dos Santos out Molenda e Scalbi Vitale non al massimo finisce in panchina tridente d'attacco con Varone sacrificato centravanti Comini e Fiore ai lati torna a riempirsi la curva della Vezzano mentre sono più di un centinaio i tifosi nero-verdi e assiepati nel settore ospiti il Chieti parte meglio contro un Avezzano molto guardingo Fiore molto attivo e già al quinto recrimina per il suo atterramento in area dopo il contatto con Allepo per Cattaneo di Civitavecchia non ci sono gli estremi della massima punizione ancora Fiore si rende pericoloso all'ottavo ma il tiro dell'esterno va stese sfila a lato Fiore che al quattordicesimo riceve nel cuore dell'area si gina bene ma deve calciare col piede meno preferito e si vede centrale ma è l'Avezzano cinico a passare al primo affondo al diciannovesimo bella idea di censore in profondità a servire Di Curzio che con capabilità e un pizzico di buona sorte vince un rimpallo e fa secco il portiere Teatino in uscita primo gol per il centravanti classe 96 prodotto delle giovanili della Fiorentina il Chieti non ci sta il ventisesimo protesta timidamente per un altro atterramento di Fiore ma la palla a gol più ghiotta per il pari arriva un minuto dopo Massimo raccoglie la corta la spinta di Davino e calcia ma sulla linea c'è il salvataggio di un difensore marsicano il Chieti chiude in forcing ma come dimostra il colpo di testa di Varone manca di incisività contro un Avezzano attento in difesa il trend della partita resta tale anche nel secondo tempo anzi le difficoltà offensive del Chieti aumentano poiché la manovra è sempre più lenta e prevedibile dopo 20 minuti di nulla Ronci prova a cambiare con il doppio innesto Bocchino ed Ewan Sica al posto di Lima Cresto e Ricucci con il passaggio al 4-4-2 e invece le cose migliorano per l'Avezzano che al ventisesimo sfiora il raddoppio bel pallone lavorato da Di Curzio assista al bacio per Bisegna che spara a colpo sicuro ma a Romagnelo distinto nega il gol l'estremo teatino però si rimangia tutto al 34esimo quando va a far farle sulla punizione di Bisegna e spiana la strada la doppietta di Lorenzo Di Curzio festa grande per il giovane centramanti e per tutto il De Marsi il gol fa calare il sipario sul derby e addirittura potrebbe arrivare il tris con Diaglie al 47esimo ma sarebbe stato troppo l'Avezzano vince con merito per il Chieti invece è crisinera e nel dopogara c'è anche il silenzio stampa dopo la partita abbiamo parlato io e il mio staff e abbiamo preso questa decisione perché era giusto in questo momento fare questo passo spero che questa cosa serva a dare una stelzata forte ai ragazzi e che spero che questa cosa possa portare un po' di pace un po' di tranquillità alla società al Presidente Pomponi che ringrazio tantissimo perché è una persona che come si è comportato in un modo incredibile non finirò mai di ringraziarlo una persona per bene che sta facendo cose straordinarie a Chieti perché il Chieti se esiste ancora lo deve a lui e se arriverà nel calcio che conta lo dovrà a lui sì sì sono irrevocato è giusto ripeto darle perché in questo momento era giusto che mi assumessi la responsabilità della cosa è normale che purtroppo sono stati fatti tanti errori e in questo momento ripeto la cosa più importante è che questi ragazzi riescano ad uscire da questa situazione e che la società ripeto abbia un po' di serenità un po' di tranquillità questa è la prima cosa chiaramente auguro a loro veramente di farlo già la domenica prossima e sul centro il derby è bianco-verde Di Curzio fa felice Ravezzano Ronci si dimette da tecnico del Chieti qui vediamo alcuni scatti della partita l'esultanza di Di Curzio e questa esultanza di gruppo nello spogliatorio di Ravezzano dopo la partita il Giulianova non convince ma incassa i tre punti Giadorossi reduci da tre rovesci consecutivi subiscono un agnone che domina la gara poi un grossolone intervento di Castaldo innesca la rete molto bella aggiungiamo noi di Pellecchia San Nicolò che dilaga a fermo ed è quarto in vantaggio con Brighi poi Merlonghi due gol di Chiacchiarelli la formazione di Epifani in zona playoff sconfitta a Pesaro a Miternina che cade con onore con due rigori ed una espulsione allora andiamo a vedere proprio i successi di Giulianova e San Nicolò battendo per una zero l'Agnonese complice la sconfitta della Miternina a Giulianova riesce il doppio sorpasso due occasionissime clamorose per parte ma si sa che nel calcio vince chi mette la palla in rete la cronaca comincia al quinto minuto per il Giulianova quando Cerasi non arriva alla deviazione su un cross alla sinistra poi Agnonese che conquista il centrocampo e comincia a mettere in apprezzione la difesa giuliese come al tredicesimo quando Marolda si invola verso la porta di Ursini ma sbaraglia riesce a recuperare mandando in angolo la sfera 5 minuti dopo è clamoroso il gol che si divora il molisano di Ronza che da 2 metri dalla porta supera il suo marcatore e con Ursini praticamente impattuto spara un destro che si perde in curva passata la paura il Giulianova tenta di essere più incisiva e dal trentaseiesimo sembra restituire il favore ai molisani quando in area si crea una mischia con sbaragli e marini che fanno il tirassegno davanti alla porta di Mancino due minuti dopo ancora il Giulianova punizione di Pellecchia palla deviata dalla barriera che assume una parabola che sfiora il palo non succede più nulla in un primo tempo brutto ravvivato solo dalle due occasioni una per parte fallite ripresa che inizia in maniera soft anche se è sempre l'Agnonese a cercare di fare la partita e così come nel primo tempo anche nel secondo la gara si accende all'improvviso seppur povero di azioni da gol comincia l'Agnonese al quattordicesimo con Guida che scalda i guantoni ad Ursini dalla stessa bandierina svetta di testa Campanella tutto solo ma incredibilmente sbaglia così due minuti dopo è il Giuliese e Alessandrone a divorarsi il vantaggio ottimamente impeccato da un cross di Pellecchia la sensazione del risultato ad occhiali c'è tutta ed invece ecco al 29esimo il gol partita che fa esplodere il Fadini i centrali molisani cincischiano sulla palla che arriva a Pellecchia delizioso pallonetto e mancino battuto gara che cambia volto con l'Agnonese all'assalto e Giulianova che si difende e così dopo cinque minuti di recupero può esplodere la festa giallorossa ci prende gusto il San Nicolò dopo l'incredibile rimonta casalinga con la Folgore la squadra abruzzese sbanca i recchioni con un primo tempo da applausi si ferma a quattro invece la striscia positiva della fermana che sul prato di casa perde l'occasione per allungare il passo in direzione playoff basta un tempo alla squadra di Epifani per chiudere la pratica dopo 21 minuti Brighi è abile con l'aiuto di una mano a mettere in rete una punizione contestata calciata da Merlonghi la fermana reagisce subito con forza passano appena due minuti e segna ancora lui sempre lui Ugo Molinari al sesto centro in quattro gare giocate per il bomber argentino approfittare dell'errore in fase di disimpegno di Pretara è semplice come bere una sambuca la squadra di Epifani non molla e tre minuti dopo il pareggio giallo-blu torna immediatamente in vantaggio con Merlonghi che parte in posizione dubbia si avventa su un lungo lancio si presenta davanti all'Olzac e lo batte senza problemi ma non finisce qui perché prima della pausa al minuto 39 Chiacchiarelli tornato al San Nicolò nella finestra di mercato dopo l'esperienza Alfano firma il Tris al termine di un'azione manovrata con un gran colpo a giro gara indirizzata verso l'Abruzzo e titoli di coda che scorrono irreversibilmente dopo la quarta rete ospite in apertura di ripresa la firma è ancora quella di Chiacchiarelli la gara diventa una sorta di amichevole col San Nicolò intento a gestire largo vantaggio e la firmana alla ricerca di qualche applauso Degano e Molinari i più testardi alla ricerca del gol ma nulla da fare finisce con il blizza del San Nicolò quarta forza del campionato per i canarini un brusco ritorno sulla terra sul centro il basket a due le Abruzzesi è un rosetto da favola capolavoro a Brescia impresa della McEnergy sul campo della capolista del Girone Est prova non daglieno questa volta di Allen 17 punti ma 21 per Weaver e 19 per un grandissimo Pierpaolo Marini che qui vediamo nella foto Trullo ora non è una eresia pensare ai playoff la doppia soddisfazione di Marini contento per la vittoria della squadra e per la mia prestazione davvero un'impresa davanti alle telecamere di Sky quella della McEnergy Roseto punteggio eloquente 77 a 95 male invece ieri la Proger Chieti la marcia del Chieti si ferma a Ferrara la Proger è sottotono ma la differenza Canestri è salva finisce 78 a 65 in doppia cifra Lilov Allegretti e Monaldi per la squadra di Galli che si prende la responsabilità del KO non sono riuscito a far capire ai ragazzi l'importanza della gara e poi per la serie B Ortona torna a sorridere 83 a 67 la vittoria su Monteroni ribaltata la differenza Canestri la BCC Vasto continua la risalita e spera battuto anche Taranto 72 a 70 il Campi si riscatta subito i Farnesi tornano a vincere ma perdono fattori che va a Legnano 71 a 51 la vittoria su Porto Sant'Elpidio e poi Amatori colpo a Bisceglia con finale da brivido i pescaresi dominano per tutta la gara ma rischiano di farsi raggiungere negli ultimi minuti il finale 76 a 81 e poi ancora per la palla a volo di A2 si equa in crisi Lanci usa la frusta il coach dopo il capo Altaibrec blocco psicologico inammissibile per una squadra che vince 2 a 0 il presidente su Facebook torneremo a prenderci grandi soddisfazioni la sfortuna finirà in settimana arriverà l'opposto Dallas Sunyas basterà guarire l'impavida attesa domenica dal Sora e andiamo a chiudere con il messaggero Abruzzo anche in questo caso parliamo dell'impresa di Roseto contro la capolista con una grande prova di squadra gli Sharks sbancano Brescia 7-7-9-5 dominando e consolidano la posizione in zona playoff Abruzzesi sempre in totale controllo i Lombardi rientrano nel terzo quarto ma negli ultimi dieci minuti gli ospiti dilagano complimenti ai nostri lunghi dice il coach Tony Trullo per la Proger invece La Striscia si ferma Ferrara dopo quattro vittorie Biancorossi poco aggressivi si svegliano solo nell'ultimo quarto preoccupazione per Armwood che ha subito una distorsione al girocchio durante il match sbagliato l'atteggiamento dice coach Galli quindi l'ultima pagina quella dell'eccellenza tornando al calcio Vastese svogliata ma resta leader poche emozioni sul campo della Torrese pareggio giusto i Biancorossi si accontentano e non allungano in classifica 0-0 il finale sul campo della Torrese Fani vogliamo fare di tutto per risalire la china Bolami dobbiamo essere più concentrati ma c'è l'occasione persa dal Paterno che impatta con il Cuppello e dunque in classifica come vediamo restano a pari punti Vastese e Paterno ma la Vastese ha una gara in meno che sarà recuperata nei prossimi giorni la gara contro il Martinsicuro 46 punti Vastese e Paterno in vetta Paterno che appunto ieri ha pareggiato a Cuppello mancando l'opportunità di prendere la leadership provvisoria della classifica ci fermiamo qui con mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti del TG6 alle ore 14 alle ore 19 alle ore 23 e poi come sempre come tutti i lunedì alle ore 21 replay di Enrico Rocchi per commentare lo splendido momento del Pescara grazie a Gianni Dario in regia e grazie a voi che ci avete seguito in questa mattinata buona giornata grazie a tutti grazie a tutti